Senza sosta e senza esclusione di colpi il confronto tra comune di Cremona e Sport Management sulla vicenda riguardante la gestione della piscina comunale. La società veronese dopo la sconfitta al TAR ha presentato ora ricorso addirittura al Consiglio di Stato e questo dovrebbe essere quasi certamente l'ultimo passaggio considerando che la decisione del massimo organo della magistratura sarà sentenza definitiva. Resta una battaglia legale iniziata quando il comune ha deciso di risolvere il contratto che avrebbe dovuto legarlo a Sport Management fino al 30 settembre 2042. A spingere l'amministrazione alla rescissione le tante segnalazioni degli utenti corredate da foto e video arrivate in comune per lamentare le condizioni igienico-sanitarie degli impianti non ritenuti assolutamente idonei. Ma Sport Management non ha reagito passivamente, due ricorse al TAR di Brescia, uno riguardante la revoca, l'altro l'apertura della manifestazione di interesse alla ricerca di un nuovo gestore. Ma il TAR ha deliberato a favore del comune di Cremona su entrambi i fronti e da lì il ricorso al Consiglio di Stato. Intanto entro il 22 luglio dovranno pervenire anche le offerte economiche degli aspiranti nuovi gestori, da qui ne verrà scelto uno provvisorio che resterà al momento in carica un anno, aspettando che si possa mettere sulla questione la parola fine.